Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi volevo affrontare uno degli argomenti tematici legati alla letteratura, finalmente si torna un po' su questo tema, per un Feminist Friday ovviamente, ed è quello dello Strong Female Character, che, attenzione, non vuol dire come traduzione letterale il personaggio femminile forte, ma identifica proprio uno stereotipo di personaggio che piano piano andremo a analizzare e, spoiler, non è che faccia così bene, non è che rappresenti la donna in maniera così proprio benefica, ma dopo ci arriviamo, insomma. Di solito parto dalla definizione di quello che è un concetto, ma in questo caso secondo me bisogna fare prima un piccolo percorso per arrivare poi effettivamente a delinearne le caratteristiche e la definizione. È ovviamente uno stereotipo e, anche se apparentemente dovrebbe parlare di donna, o comunque rappresentazione di un personaggio femminile forte, ne parleremo più tardi. Quando ho iniziato un po' a ragionare su questo tema, che è una cosa che rimando da veramente tanto tempo, mi sono sempre chiesta, ma per rappresentare un personaggio forte, bisogna per forza, c'è proprio necessità, che sia fisicamente forte, ho detto forza troppe volte, forse la domanda non è chiara, per essere forte bisogna comunque in ogni caso essere fisicamente forte, prestante, eccetera, lo scopriremo più tardi. Detto ciò, diciamo che la rappresentazione della figura delle donne, del mondo femminile, nei media per anni è stato dominato soprattutto dalle donzelle in cerca di aiuto, da personaggi che avevano bisogno di essere salvate. In generale la caratterizzazione poi di questi personaggi e la loro rappresentazione nei media è stata nettamente carente, per dirla in termini affettuosi, perché è carente fare un complimento a questa rappresentazione, per diverse ragioni chiaramente, innanzitutto non essendo soprattutto nel cinema, ma anche in tantissima letteratura, anche quella di genere chiaramente, non essendo delle protagoniste erano rilegate a dei ruoli secondari, dei ruoli che tendenzialmente erano funzionali al protagonista o accessori ed erano spesso il love interest, quindi l'interesse amoroso, e in più non è da dimenticare la maggioranza degli scrittori, soprattutto nel cinema, anzi praticamente il cinema è dominato solo e unicamente da scrittori, era dominato, adesso ce n'è un po' meno, ma comunque siamo proprio, eh, va bene ma non è questo il punto, la maggioranza degli scrittori che scriveva ruoli femminili, che descriveva personaggi femminili, anche in letteratura, erano per lo più uomini. Andando avanti nel tempo e soprattutto avvicinandoci a quello che è il mio campo, ovvero la letteratura per ragazzi, anni fa è scoppiato lo young adult, è scoppiato questo filone, che ha portato invece ad avere ad esempio una maggioranza di scrittrici femminili, cosa molto singolare, molto unica nel suo genere, però devo dire che effettivamente non è stato così clemente questa ondata di scrittrici femminili nei confronti dei propri personaggi, che avevano tendenzialmente, sia quelli femminili che quelli maschili, una caratterizzazione davvero pessima, e avevano proprio dei problemi di impostazione del personaggio, molto molto gravi, è evidente, diciamo, io faccio sempre l'esempio che è universalmente riconosciuto come problematica, è universalmente anche stato letto da più persone possibili, ho visto attraverso il cinema, insomma, così che è Twilight, Twilight rappresenta proprio come non si scrivono i personaggi, e come le dinamiche interne del personaggio siano problematiche. Sono nate quindi così le Mary Sue, che sono dei personaggi che sono blandi, non hanno caratteristiche, non hanno spinte, pulsioni personali, non hanno una personalità, non hanno del carattere, non hanno una volontà, sono passive, sono deboli, oppure sono personaggi che per ogni minima decisione, ogni scelta che debbono compiere lungo il proprio percorso, si rivolgono e rimettono tutto nelle mani di un personaggio maschile. Oppure, e non so, forse è ancora peggio a mio parere, ma forse è una gara molto dura, identificano proprio nel personaggio maschile lo scopo ultimo del proprio percorso all'interno della narrazione. Quindi abbiamo letto per anni un sacco di belle suon, in pratica, per chi si è avvicinato allo young adult, ma non solo, non pensate che sia solo lo young adult ad avere creato questi buchi neri, chiamiamoli buchi neri perché è vuoto tendenzialmente dentro, potete controvertire queste mie nozioni di fisica inesistenti. Dopodiché è nata una nuova esigenza, abbiamo letto appunto per anni di queste belle suon, abbiamo capito che per tanti di noi non rappresentavano nulla, o erano vuoti stereotipi, involucri, senza nulla che potessero trasmetterci, così davvero svuotati di ogni capacità cerebrale e inette in qualsiasi cosa, che abbiamo cercato di rivolgerci altrove, avevamo diverse esigenze. E quindi cosa è successo? Si è praticamente ribaltata la situazione, il mondo, soprattutto della letteratura per ragazzi, dello young adult, ha sempre di più cercato di imporre non le Mary Sue, o comunque, dopo ci arriviamo a questo punto, ma non popolarlo di personaggi deboli, o comunque inetti, incapaci di fare qualsiasi cosa, ma è diventato dominato dalle cosiddette strong female character, che ripeto, non va tradotto letteralmente, perché non esiste una definizione simile in italiano, almeno io non la conosco, non essendoci nessun apparato critico riguardo a questo tema in generale. E diciamo che lo strong female character ha molto in comune con le Mary Sue, anche se all'apparenza sembrano totalmente diversi. Ma noi avevamo un'altra esigenza, avevamo bisogno di ispirarci ad alcune eroine, avevamo bisogno di immedesimarci in una storia di personaggi apparentemente molto forti. E come sono stati costruiti questi personaggi? Insomma, per ottenere dei personaggi femminili che rispondessero a questa esigenza, non si è compiuto un percorso che analizzasse cosa significa essere una donna forte, si è preso uno stereotipo e lo si è totalmente ribaltato e svuotato del proprio significato, sempre che ne avesse avuto uno. Quindi in pratica, si è passata dall'inetta che aspetta di essere salvata, ha il totale ribaltamento. Quindi se vuoi essere un personaggio femminile forte, devi tirare calci e pugni e tagliare delle gole. Cioè, estremizzando tantissimo. Ma seguitemi. Ci sono state anche diverse fasi e piano piano però si è andati verso una stabilizzazione. Si è passati dal personaggio in abiti totalmente succinti, molto sexy, che combatteva con i tacchi altissimi. Quindi la fase un po' dell'ipersessualizzazione del personaggio a quella invece dove tutto ciò viene negato totalmente. Ma c'è una cosa che accomuna entrambi questi tipi di personaggi. Uno ipersessualizzato e l'altro invece svuotato di ogni tipo di sessualità. Però diciamo che entrambi presentano non caratteristiche di un personaggio femminile forte, ma sono personaggi che vengono caricati di qualità che erano tipiche dei ruoli di genere che vengono attribuiti agli uomini. Perché non sapendo bene come descriverlo, non facendo un'indagine su come dovrebbe essere un personaggio femminile forte, quali caratteristiche potrebbe avere, eccetera, eccetera, si è scelta la strada più semplice. Quindi si è preso lo stereotipo del personaggio maschile forte si è tagliata la barba e gli si sono messi dei capelli un po' più lunghi e dei vestiti leggermente più femminili. Quindi in pratica noi abbiamo iniziato a leggere dei personaggi maschili ma nel corpo di una donna. Anzi, neanche dei personaggi maschili perché questo secondo me è offensivo anche dal punto di vista maschile, ma degli stereotipi di personaggi maschili con il corpo di donna. Generalmente lo strong female character presenta delle caratteristiche fisiche che sfidano la biologia. Badate bene, è vero che quello che sto per dire non vale per tutti, non significa che tutte le donne sono più deboli degli uomini, come non è vero che tutti gli uomini sono più forti delle donne, ci sono singolarità, ci sono personaggi che ragionano in un modo o nell'altro, però è una linea generalmente condivisa questa. È inconfuttabile da un punto di vista biologico di una media, chiaramente bisogna fare una media e la media conferma questo dato, che la stragrande maggioranza delle donne sia fisicamente meno forte rispetto agli uomini, in quanto di media il cuore e i polmoni che aiutano sia la respirazione che la circolazione che arriva ai muscoli e quindi permette le prestazioni fisiche, sono leggermente più piccoli e hanno quindi una capacità minore di quella maschile riguardo alla prestanza muscolare e alla resistenza e la massa muscolare spesso non è comparabile. Badate bene, con questo discorso non sto dicendo che se siete più forti di un uomo è sbagliato, assolutamente no, non lo penso e non lo penserò mai. Ci sono donne che sono molto più forti di alcuni uomini o di tutti gli uomini, non è questo, ci sono persone molto allenate che sono indipendentemente dal genere estremamente resistenti, estremamente forti, estremamente così, ma la biologia conferma con una stima di massima che le donne sono tendenzialmente più deboli fisicamente di un uomo. Personalmente penso che eliminare la differenza biologica non sia né progressista né femminista, ma è semplicemente ridicolo. Anche se alcune donne possono ipoteticamente essere delle guerriere pazzesche perché sicuramente sono più forti degli uomini alcune donne, ma le donne e gli uomini di media sono generalmente difficilmente comparabili da un punto di vista fisico. E sto facendo una media di nuovo e ci tengo a sottolinearlo perché non vorrei che venisse interpretato in malo modo. In un combattimento corpo a corpo una donna che si confronta con un uomo sarà tendenzialmente in svantaggio. E soprattutto io sfido chiunque a trovare una quindicenne e una sedicenne che da sola riesce a stendere una squadra di 30 guerrieri adulti preparati ad allenati. Cioè questa è una cosa che proprio va chiarita. E secondo me il fatto di rappresentare dei personaggi che a quanto parano questa forza straordinaria un po' ricalca uno stereotipo della psicologia che in qualche modo io mi sento di confutare ovvero la classica invidia del pene è un po' come sottolineare che le donne invidiano terribilmente invidiano terribilmente la forza maschile e si sentono in dovere di dimostrare anche solo nell'arte quindi nella scrittura nel cinema e negli altri mezzi di riuscire ad emulare e ad essere al pari della forza maschile perché la invidiano. io adesso non sono un campione chiaramente valido perché sono solo una ma io sono sopravvissuta 30 anni senza riuscire neanche ad aprire una bottiglietta dell'acqua vi dirò sono sopravvissuta benissimo è andata avanti la mia vita e non penso di essere una persona debole solo perché non ho prestanza fisica in generale il fatto di sottolineare come le donne un po' invidino questa forza maschile fa come dire che se io voglio veramente la parità devo comportarmi come un uomo devo emularlo perché fisicamente mi devo sentire adeguata ad un uomo non funziona così la parità non è questo e quindi questi personaggi femminili tendenzialmente sono molto aggressivi ricalcano lo stereotipo della guerriera che non si ferma davanti a nulla non ha paura di nulla e non riesce a essere sconfitta da niente da nessuno che è molto irrealistico poi è vero che si può dire ma il personaggio principale protagonista può essere una persona straordinaria e ci sta come critica però diciamo che tutte queste persone straordinarie dovrebbero farci sentire anche a noi immedesimati nel loro percorso ma è difficile farlo quando tu sei una persona comune ecco quindi praticamente noi per costruire questo strong female character abbiamo creato delle guerriere che hanno tutte le caratteristiche di uno guerriero maschile stereotipato che viene presentato come personaggio che hanno un'indole molto aggressiva sono imbattibili fisicamente proprio neanche avvicinabili e insomma molto violente e proprio a questo punto io mi chiedo ma quando noi nei media ad esempio leggiamo di news di persone che sono violente molto aggressive le percepiamo come persone forti per me no le percepiamo come persone aggressive e violente che è quindi un qualcosa da condannare non da percepire come un atteggiamento positivo e magari che ci dà un'immagine di una persona forte anzi è qualcosa che noi teniamo a distanza perché non è un modello che vogliamo imitare e in più lo strong female character forse proprio per questa sua indole diciamo spietata e violenta e aggressiva è un personaggio senza emozioni oppure totalmente disconnessa da qualsiasi vincolo emotivo senza alcun lato debole ovviamente perché è un personaggio perfetto e rigettano l'idea stessa di femminilità per apparire forti e spesso sminuiscono o degradano gli uomini proprio per risaltare e pensate a questa cosa quante volte capita anche nella vita reale di sentire esaltare le caratteristiche l'intelligenza femminile a scapito dei poveri e stupidi uomini chiaramente questo è un atteggiamento che apparentemente può sembrare positivo perché o dire le donne come sono intelligenti ma in realtà degradare l'intelligenza di un intero genere non ci darà posti di lavoro migliori non ci aumenterà le paghe non ci farà promuovere ruoli dirigenziali non è assolutamente così che funziona la parità non è mettendoci nella testa quanto siano stupidi inutili e incompetenti gli uomini che affermeremo le nostre capacità cioè non funziona così anche perché la competenza maschile l'intelligenza maschile che sono in dubbio è chiaramente perché ogni persona non dipende dal proprio sesso dalle prove ci sono uomini molto stupidi come ci sono donne molto stupide ci sono uomini estremamente intelligenti come donne estremamente intelligenti ma non è sminuendo la capacità di un intero genere che affermeremo le nostre capacità anche perché facendo così sembra quasi che l'intelligenza e la competenza maschile siano una minaccia in questo caso noi abbiamo un problema chiaramente e se per affermarci dobbiamo degradare sminuire deridere o far apparire stupidi deboli inutili gli uomini non abbiamo proprio presente che cosa sia la parità abbiamo un problema di fondo e l'obiettivo del mostrare una donna forte non è quello di sminuire un genere intero deridendoli o prendendoli in giro ma anzi l'obiettivo della parità e quindi di un personaggio femminile forte è riconoscere che anche nelle differenze pur essendo diversa da un uomo ha lo stesso identico valore invece se noi continuiamo a sottolineare che in questi personaggi la donna imbattibile che è biologicamente impossibile che è totalmente disconnessa dalla realtà non prova emozioni e anzi è molto più intelligente molto più furba di qualsiasi uomo perché è un povero subido sciocco invece perpetriamo un'idea che in realtà le donne siano superiori e quindi diciamo quando viene delineato un po' lo strong female character ci si ispira a uno stereotipo maschile chiaramente che è già di per sé uno stereotipo perché non tutti gli uomini sono dei gorilla che combattono e non hanno emozioni e sono imbattibili e quindi ci si ispira a questo modello questo archetipo maschile si vengono a creare degli stereotipi che però sono svuotati del loro significato originale e che non rispondono ad alcun modello reale è come se ci avessero detto tranquille potete essere forti mascoline aggressive irascibili violente quanto un uomo ed è così che sarete effettivamente forti è questo il modello da perseguire per essere una donna forte tutti gli altri modelli e gli altri valori che vengono tendenzialmente considerati deboli per un uomo non vi servono quindi è anche per questo che tendenzialmente lo strong female character assume il ruolo di guerriera perché è proprio l'archetipo del personaggio maschile forte in più prima vi accennavo che lo strong female character ha anche tanto a che vedere con la Mary Sue ed infatti essendo uno stereotipo ha tante cose in comune con la Mary Sue i suoi obiettivi sono tendenzialmente molto appannati o vanno a definirsi man mano che la storia prosegue diciamo che gli obiettivi finali del personaggio la spinta emotiva del personaggio sono sempre un po' nebulosi e spesso questo viene determinato in divenire in base alle esigenze della trama non hanno difetti proprio come le Mary Sue perché le Mary Sue sono perfette magari un po' più imbranata cosa che ovviamente lo strong female character non ha perché è impenetrabile è imbattibile e non ha mai un momento di debolezza e oltre a sminuire gli uomini sminuisce continuamente le donne che non sono come lei e le caratteristiche che queste donne presentano e che a loro parere quindi a parere dello strong female character le rende deboli in quanto sono caratteristiche che non vengono tendenzialmente attribuite a uno strong female character perché in fondo ogni strong female character è diversa dalle altre non si sa bene perché forse perché boh riesce a battere 30 uomini adulti nonostante abbia 16 anni e non sia neanche del tutto sviluppata ma lo so ragazzi quindi è per questo che lo strong female character non ha necessità di identificarsi con un modello femminile ma con un modello maschile da questo stereotipo di modello maschile ne prende le caratteristiche da quell'idea da maschio imbattibile forte che nessuno può assolutamente sconfiggere e che non ha emozioni perché è un guerriero che ha un unico obiettivo che è vincere e tendenzialmente però vengono estremizzate queste caratteristiche c'è una componente forte di aggressività di violenza e di non curanza e tutte queste caratteristiche hanno completamente cancellato e sostituito tutte le caratteristiche tipiche invece che erano della Mary Sue quindi dell'essere sempre in funzione di un personaggio maschile essere molto debole cercare aiuto eccetera ma quindi è veramente questo modello femminile da esaltare come forte in più cosa che secondo me è totalmente assurda è che lo strong female character proprio per essere strong non ha bisogno assolutamente di un appoggio maschile questa è la caratteristica principale non ha bisogno di uomini o la sfera sessuale è molto funzionale agli occhi di alcuni uomini quindi viene iper sessualizzato che è proprio una contraddizione di per sé oppure viene totalmente negata cioè non ha bisogno del sesso non ha bisogno di questa cosa e anzi rifugge tutto ciò che ha a che fare con la sfera sessuale non ha bisogno del sesso e lo demonizza quasi infatti è un aspetto frivolo per lo strong female character della sua vita e quindi questo atteggiamento finisce per relegare una donna che dovrebbe avere un rapporto con il sesso naturale spontaneo e fare quello che le pare relega questo strong female character a uno dei peggiori stereotipi che vengono attribuiti alle donne ovvero che le donne non hanno sessualità e che devono continuare a non avere una sessualità ma essere solamente funzionali alla sessualità maschile perché la donna può unicamente avere una sessualità solo quando è in funzione del matrimonio quando è in funzione della procreazione e che per tutto il tempo della sua vita debba rimanere vergine castepura perché in fondo il piacere femminile è qualcosa di negativo è qualcosa che deriva dal diavolo insomma non siamo tutte figlie del diavolo e se per caso invece una donna si avvicina alla sessualità è solo e unicamente per una storia molto seria una storia che poi porterà chiaramente ad un legame molto forte il sesso non è mai 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 casuale il sesso non è mai per il piacere femminile il sesso è perché c'è sempre questo legame fortissimo infatti sono sempre legati a un tema del matrimonio o a un tema del mate quindi del compagno a vita però adesso basta parlare di questo stereotipo negativo perché invece voglio essere propositiva in questo video e non vi farò infatti esempi di personaggi strong female character perché se no poi mi sgridano visto che stanno anche per uscire in Italia perché se no mi sgridate di nuovo poi ci sono i fan gli haters vabbè solita roba sapete di chi stiamo parlando perché le autrici sono soprattutto quelle con grande respiro mondiale detto ciò invece vi racconti secondo me invece come ribaltare questo stereotipo dello strong female character e come non scrivere personaggi del genere facendo una serie di esempi diciamo che quando viene concepito un buon personaggio maschile che anche in quel caso non deve risentire degli stereotipi diciamo bisogna applicare lo stesso metodo quando si scrive un personaggio femminile forte per scrivere un buon personaggio femminile autodeterminata e forte da un lato bisogna applicare lo stesso processo che si adotta quando si scrive un buon personaggio maschile ma dall'altro bisogna tenere conto di cose molto diverse bisogna non confondere diciamo un parallelismo quindi l'applicazione di uno stesso metodo con la sovrapposizione non significa che scrivere un buon personaggio maschile con le stesse caratteristiche sia il metodo con cui scrivere esattamente nello stesso modo un buon personaggio femminile non funziona così cioè non bisogna scrivere un personaggio femminile forte con le stesse caratteristiche di un buon personaggio maschile forte spero sia chiaro perché è un po' complesso come concetto solo perché magari questo è il modello più riconosciuto più diffuso e universalmente radicato nell'immaginario collettivo perché purtroppo abbiamo sempre troppi pochi esempi di buoni personaggi femminili o personaggi femminili effettivamente forti con la stessa profondità con gli stessi obiettivi chiari con la stessa anche complessità con una personalità molto spiccata in un modo o nell'altro che può essere anche molto diverso all'interno di quello che significa proprio avere una personalità spiccata con punti deboli con punti forti con difetti con dei grandissimi pregi con relazioni interpersonali realistiche eccetera eccetera tutte quelle cose che vengono attribuite alla scrittura di un buon personaggio maschile che è forte che però non deve ovviamente quando si tratta di un personaggio femminile forte non ne deve riprodurre le caratteristiche e poi ribadisco un personaggio forte non deve per forza scusate il gioco di parole essere forte fisicamente non è necessario la forza di un personaggio non corrisponde alla sua forza fisica e basta corrisponde a tantissime altre caratteristiche e soprattutto quando si parla di forza lo si può essere in una in innumerevoli modi la vulnerabilità che è una cosa che viene sempre attaccata dallo strong female character non è assolutamente una debolezza come non lo è l'eccessiva sensibilità o la sensibilità in generale che sono sempre due temi molto attaccati dallo strong female character l'essere vulnerabile quindi a volte poter soffrire poter essere sensibile verso certi aspetti certe cose che accadono non significa che una persona è debole significa solo che ha percezione di ciò che le sta attorno ottiene determinate cose perché feriscono ed essere ferite non significa essere deboli non essere feriti da nulla e questo è importante anche nella vita reale e quindi non percepire nulla non avere alcuna sensibilità verso nulla non rende forti non è la caratteristica che rende forti il prendersi cura degli altri l'essere molto attenta nei confronti delle persone che ci stanno attorno non significa debolezza non significa necessità di avere attenzioni oppure dipendenza la collaborazione con gli altri non è di nuovo debolezza non significa essere sottomessi a qualcun altro non significa essere incapaci soprattutto e altra cosa ricercare anche la bellezza avere alcuni aspetti che vengono considerati frivoli non significa esserlo una donna apparentemente indipendente arrogante e aggressiva che non ha bisogno di nessun uomo attorno a sé e che non ha alcun tipo di emozioni non prova nulla niente la scalfisce non significa di per sé che sia un personaggio forte o una donna forte anzi quasi nella totalità dei casi però significa strong female character spesso infatti si incappa nell'errore ovviamente di sbilanciarsi troppo verso certe caratteristiche o compensare verso certe caratteristiche che sono comunemente associate alla forza oppure che negano in maniera molto netta e totale quello che in Hercules veniva definita la D.I.D. ovvero donzelle in difficoltà oppure quelle caratteristiche che la nostra società percepisce come molto femminili e che quindi non possono essere associate alla forza e quindi vengono sostituite totalmente con delle caratteristiche maschili nello strong female character non tutte le donne ovviamente sognano la maternità sognano di essere mantenute dal compagno anzi scusatemi visto che stiamo parlando di strong female character si parla solo di marito o di mate guai un compagno occasionale e vogliono infornare torte fino alla fine dei propri giorni ma allo stesso tempo non si possono demonizzare certe aspirazioni il desiderio della maternità può esserci o non esserci ma non deve essere qualcosa da demonizzare non c'è nulla di male in una donna che desidera avere dei figli come non c'è nulla di male in una donna che desidera non averli chiaramente perché ovviamente come succede esattamente per gli uomini non tutte le donne sognano le stesse cose non tutte le donne aspirano alle stesse cose e ribadisco non tutte le donne forti desiderano tagliare delle gole dalla mattina alla sera alcune caratteristiche infatti che sono generalmente attribuite al mondo femminile ovviamente su questo ci tengo di nuovo a fare un disclaimer queste caratteristiche vengono generalmente attribuite in quanto aspettative di genere o culturalmente passano nella cultura in cui siamo inserite e nella mentalità nella quale siamo inserite non sono caratteristiche innate chiaramente ci tengo molto perché so che potrebbe essere distorta questa mia frase però ci sono alcune caratteristiche che vengono spesso attribuite ai ruoli di genere che tendenzialmente portano le donne non tutte magari qualcuna ne ha una magari qualcuna le nega totalmente eccetera eccetera non c'è nulla di male in tutto questo però ci sono proprio queste alcune caratteristiche che sono tendenzialmente attribuite al mondo femminile che non significa di nuovo che le donne sono tutte così ma i costrutti sociali e la cultura spesso incidono sullo sviluppo di una o più di queste caratteristiche vengono tendenzialmente attribuite alle donne come ruolo di genere come la compassione l'empatia la cura e l'accoglienza l'essere premurose intuitive emotive eccetera eccetera sono state tipo demonizzate da questi personaggi sono state proprio messe da parte perché queste non faranno mai parte di un personaggio forte però non c'è nulla di debole nell'essere emotive non c'è nulla di debole nell'essere sensibili non c'è nulla di debole nell'essere premurose e nel possedere anche solo una di queste caratteristiche anzi lasciatevelo dire ci vogliono due palle così perché essere delle persone non di merda giuro ci vuole sempre più forza che ad essere invece muscolari in generale bisogna proprio staccarsi da quest'idea stereotipata di strong female character e di questo personaggio che fondamentalmente è un involucro vuoto che non rappresenta nulla di quella che è la vita reale ma anzi per scrivere proprio un buon personaggio femminile forte determinato autodeterminato indipendente bisogna guardarsi attorno attingere proprio dalla vita reale che ci dà numerosissimi esempi attorno a noi nella nostra famiglia nella nostra realtà tra i nostri amici tra le nostre amiche tra le nostre conoscenze nel posto di lavoro nella vita pubblica nei media per trasportare queste caratteristiche all'interno di un personaggio quindi ci tenevo invece a farvi degli esempi che rappresentano dei personaggi soprattutto nello young adult che invece ribaltano questi stereotipi e fanno vedere come anche dentro un genere che spesso ha dei difetti di caratterizzazione invece ci sono tanti esempi virtuosi sono tutti personaggi che io amo profondamente e partirò proprio da due personaggi che invece sono molto vicini allo stereotipo ma che in realtà lo sovvertono ovvero due guerriere la prima è Mia Corvere che è la protagonista di Nevernight di Jay Kristoff è sì una guerriera letale anzi è un'assassina letale ma al contrario dello strong female character che non ha alcun tipo di emotività Mia ha invece una forte componente femminile nel senso che viene generalmente attribuita alla femminilità legati proprio al suo personaggio ovviamente è spinta e motivata dalla vendetta verso ciò che è successo alla sua famiglia sto cercando di non fare spoiler ed è difficilissimo perché per lei è stato un evento traumatico e affronta le conseguenze di questo evento traumatico lungo tutto il corso della narrazione questo tuttora la tormenta tanto che ha necessità di avere Mr. Kindly di fianco a lei che è un gatto vapore vabbè un demone a forma di gatto che risucchia le sue paure si nutre della sua paura e questo ovviamente ci dice sempre di più che la paura c'è dentro Mia è un personaggio che trema è un personaggio che ha paura che quindi si mostra anche nella sua debolezza cioè nella sua vulnerabilità e anzi è rappresentata in modo che sia proprio una parte di lei e questo è dimostrato come questa sua paura sia sia un vantaggio che una grossa debolezza perché nel momento in cui Mia non riesce a percepire la propria paura spesso affronta le questioni che le capitano con una ventatezza molto irresponsabile e spesso soprattutto all'inizio ma anche in diversi punti della narrazione questa sua paura a un certo punto la rende così dipendente dai propri demoni così dipendente da Mr. Kindly e non solo che si sente spesso paralizzata e consumata dalla sua paura quando questi sono assenti ovviamente perché è incapace di elaborarlo da sola è incapace di affrontare queste sue paure ma nel corso dei romanzi questo diventa un aspetto sul quale lei lavora che lei cerca di affrontare e cerca di superare in maniera un po' più equilibrata infatti mentre Mia inizia a affrontare i suoi demoni interiori inizia a costruire fiducia verso se stessa e trova sempre più facile affrontare le proprie paure però sempre ricordandosi che esse ci sono e sono parte di lei quindi mentre apparentemente Mia può sembrare un personaggio freddo distante distaccato anche per le persone che sono più vicine a lei che in realtà sono apparentemente vicino a lei dimostra lungo il corso della narrazione in diversi momenti sia per le proprie difficoltà che anche per come agisce nei confronti degli altri di essere uno dei personaggi più empatici e gentili di tutto il pantheon di Nevernight e mentre apparentemente tutto ciò che fa viene guidato dal senso di vendetta questo sentimento non l'ha divorata non l'ha consumata e non l'ha definita lungo il corso della narrazione l'ha guidata e l'ha motivata ma ha scoperto di avere molto di più da dare in quanto personaggio in quanto persona la vendetta non l'ha di certo né consumata né corrotta fino in fondo perché infatti ci sono linee che lei non è disposta a oltrepassare non prenderà mai la vita di una persona innocente non ucciderà mai qualcuno che è innocente e non abbandonerà o tradirà i propri compagni anche a costo della propria vita in questo nessuno potrebbe considerare mia debole solo perché non ha ceduto a determinati istinti e si dimostra una persona anche sensibile anche vulnerabile per certi aspetti anzi questo arricchisce il suo personaggio l'altra guerriera della quale vi voglio parlare tanto per cambiare visto che siamo sul mio canale è ovviamente Lada Dracul anche per voi sapete che io la amo moltissimo ed è la protagonista della serie di And I Darken Io sono Buio Nigh I Rise and Bright We Burn di Kirsten White presenta proprio nonostante lo stereotipo dell'essere una guerriera Lada rappresenta un personaggio femminile molto diverso da tanti altri anche dallo strong female character ma anche dalla Mary Sue ma anche da un personaggio femminile di altro tipo in un'altra natura in uno spettro davvero molto ampio sia come rappresentazione della femminilità e di cosa significa per lei la femminilità ma anche come ribaltare la struttura della donna forte dello strong female character cioè quindi da quello tradizionalmente molto femminile a quello assolutamente non femminile perché infatti in generale il messaggio anche del suo personaggio ma di tutta la saga e tutti i personaggi femminili ma non solo all'interno della saga della Conqueror saga comunque dimostreranno che non importa che tipo di donna sei che tipo di modello femminile tu stai abbracciando comunque tu passerai attraverso una serie infinita di ostacoli di difficoltà e di discriminazioni e li dovrai affrontare e che non c'è mai solo un modo buono o un modo cattivo per affrontarli infatti i personaggi in generale della Conqueror saga soprattutto quelli femminili ma non solo ripeto affrontano problemi molto simili nessuno di loro è libero sono derubati della loro identità e quindi dipendenti da qualcun altro sono derubati della propria identità e della propria indipendenza non sono considerati spesso proprio perché sono donne quindi devono adottare dei modelli tradizionali di femminilità all'interno della saga e come nella vita reale a volte quando cercano di combattere queste discriminazioni a volte trionfano a volte falliscono ma ognuno ha i loro punti di forza e i loro punti di debolezza e non sto parlando solo dei personaggi femminili c'è anche Radu di mezzo c'è anche Mehmed diverso che ovviamente io lo odio però è un personaggio che è giusto odiare sono allo stesso tempo molto forti e molto deboli per alcune cose coraggiosi ma anche vigliacchi in altri casi l'Ada infatti è tutto forché è un personaggio perfetto anzi è piena zeppa di difetti è l'anti-eroina per eccellenza infatti rappresenta un essere umano molto complesso è una ragazza brutta fisicamente molto capace ma non eccezionale ma non eccezionale ma in grado di riuscire a ricorrere a tutte quelle che sono le sue risorse è una buona stratega ed è immensamente orgogliosa cosa che spesso la porta proprio a commettere i suoi peggiori errori l'Ada cresce in un ambiente che la porta a essere una donna molto violenta e arrabbiata nel corso della narrazione dove noi osserviamo soprattutto la sua diciamo crescita nell'età dall'adolescenza all'età adulta vediamo anche come spesso ha anche la possibilità di crescere verso altre caratteristiche cresce come persona diventando più brava nella strategia militare e politica ma soprattutto impara come diventare una leader ed è spinta da una motivazione molto profonda da un senso di ingiustizia molto profondo infatti ha proprio una visione estremamente socialista che è una parola molto strana da applicare a Lada di come lei vede un leader di come lei vede anche il proprio popolo sia Lada che Radu sono degli esseri umani estremamente complessi e profondamente imperfetti questo è proprio una delle cose che io preferisco della Conqueror Saga è vero che tutti hanno un talento sono intelligenti e hanno un obiettivo ben chiaro in mente ma non sono perfetti mentono soprattutto a se stessi sono degli ipocriti in fondo e soprattutto anche quando Lada arriva a un punto nel quale non vorrebbe più sentire nulla provare nulla si rende sempre più conto che questo sarà impossibile per lei ancora sempre dentro di sé una fortissima compassione ed empatia verso le persone soprattutto verso quelle che sono più indifese più deboli più povere e che in qualche modo deve difendere perché se non lo farà lei non lo farà nessun altro e questo la rende non solo un buon personaggio ma anche un buon leader Lada secondo me è proprio in questo un buon personaggio perché ribalta un stereotipo al quale si avvicina tantissimo ma dal quale si distanza allo stesso modo in maniera molto netta e poi arriviamo ovviamente non potevo non mettere a Nina Zenik e Inej Gaffa ovvero due delle protagoniste di Six of Crows e Nina Zenik volevo partire proprio da lei perché ad esempio loro sono di per sé diciamo guerriere ma in maniera molto diversa da quelle due precedenti sono comunque sempre coinvolte in scorribande varie ed eventuali ma non sono definibili solo e unicamente delle guerriere Nina Zenik di per sé sovverte tantissimi stereotipi è una persona molto audace è divertente è molto rumorosa e ama il cibo più di ogni altra cosa al mondo nonostante la sua fierezza potremmo dire nonostante il fatto che sia comunque un personaggio molto orgoglioso di quello che è riuscita a diventare e come è riuscita a crescere Nina si mostra sempre anche estremamente affascinante e costruisce proprio una solidissima amicizia con Inej e riesce anche proprio a vivere questa forte empatia femminile pur avendo dei caratteri molto diversi tra di loro Nina poi è un personaggio molto complesso infatti noi la conosciamo anche come estremamente fedele alle sue radici di Ravka si considera prima di tutto un soldato griscia della second armi mette sempre le esigenze del proprio paese di fronte alle sue è in missione in fondo ed è un personaggio che io adoro perché Nina abbraccia ciò che è non si spaventa di ciò che è nel bene o nel male di quello che il suo personaggio rappresenta però allo stesso tempo non si lascia mai calpestare dagli altri è un personaggio però estremamente empatico che si prende cura di chiunque abbia intorno è emotiva ed è compassionevole è allo stesso tempo fedele alla sua causa e ai suoi compagni ed è sempre a suo agio con se stessa nonostante ne riconosca i limiti ne riconosca la diversità e ne riconosca quelli che possono essere i suoi difetti adoro di Nina il fatto che sia rappresentata come questo personaggio molto formoso molto fuori dagli stereotipi classici della guerriera tonica e perfettamente in linea eccetera anzi Nina non lo è per nulla il personaggio è abbastanza potente da questo punto di vista ma è un'ottima guerriera una guerriera che non ha paura di affrontare il pericolo e di mettersi in prima linea per difendere chiunque abbia intorno ed è una vera e propria guerriera e mi piace del suo personaggio che abbia un lato estremamente frivolo che compensa sempre questo suo lato forte da guerriera e questo non la rende mai meno intelligente o meno affidabile per i suoi compagni perché quando arriva al pericolo lei sarà sempre pronta ad affrontarlo magari con una battuta ironica però non si lascerà mai scappare l'occasione di dimostrare nuovamente quanto sia forte anche se è un lato molto più tenero frivolo per alcuni versi Inej invece è un caso ancora diverso perché Inej è principalmente conosciuta per la sua natura riservata lei è una guerriera che ha una solida motivazione per essere diventata una guerriera e quel tipo di guerriera che è perché Inej infatti è il personaggio che agisce un po' nell'ombra per cogliere di sorpresa i nemici perché effettivamente ha una storia passata che la vedeva impiegata in attività circensi era un acrobata di famiglia poi succede il casino ovvero succede il trauma che contraddistingue Inej e quella è un'altra storia perché non facciamo spoiler Inej soprattutto al di là delle sue caratteristiche fisiche però è universalmente riconosciuta come forte dal punto di vista psicologico perché in questo trova la sua vera forza dalle sue convinzioni trae fortissima aspirazione trae proprio quello che è il suo motivo trascinante è tranquilla è molto tranquilla non è aggressiva ascolta tantissimo gli altri ma è moralmente incrollabile non ha mai paura di dire la propria opinione quando sente che è necessario il fatto che non prevarichi gli altri anzi rende proprio la sua opinione l'ascolto della sua opinione una fase molto importante perché quando parla Inej bisogna ascoltare perché saranno parole ponderate e sagge per il suo vissuto personale è sicuramente una persona molto scettica nei confronti delle persone ma ciò non le impedisce invece di stabilire dei forti legami e sicuramente è disponibile il più possibile ad offrire la propria amicizia a coloro che hanno dimostrato di meritarla e comunque di essere brave persone è sì una guerriera ma non di quelle che si basano unicamente sulla propria forza fisica ma su altre abilità come quella della sorpresa come quella della tattica e tante altre cose e non è perfetta anzi fallisce paga le sue ingenuità come tutti i corvi ma mi sono resa conto che non posso dirvi questa cosa che volevo dirvi perché spoiler comunque Inej si deve continuamente confrontare sia col proprio passato che la rende vulnerabile sia con i propri limiti eppure non crolla mai moralmente perché ha delle convinzioni dentro di sé che la rendono molto forte perché i suoi valori sono ciò che la definisce insomma è un personaggio che è sì una combattente ma soprattutto una pensatrice cioè qualcuno che pensa continuamente all'interno della narrazione e soprattutto è qualcuno che non si lascia in alcun modo definire dalle proprie relazioni anzi scopre che se queste potrebbero non corrispondere anche a una realizzazione personale o avere ciò che lei desidera ciò che lei deve perseguire come qualcosa di più ampio sono qualcosa da tenere sicuramente in secondo piano cioè in fondo Inej è un personaggio proprio avvincente proprio perché lei non confonde mai la forza brutta e l'aggressività con la forza stessa oppure l'impulsività per coraggio sono due cose distinte e quindi insomma anche qua vediamo due personaggi guerrieri che però esulano molto dagli stereotipi e con questi visto che insomma spero di aver snocciolato la questione arrivo all'ultimo esempio che non è un esempio di libri però ci tenevo un sacco ad includerlo perché per me rappresenta troppe cose le voglio un bene che voi non potete immaginare ma dal momento in cui io penso di essere stata fan di qualcosa di qualsiasi cosa nella mia vita so di essere stata una fan di Star Wars e soprattutto so di essere stata una fan della principessa Leia ancora priva che venisse qualsiasi altra cosa e il suo personaggio soffre soprattutto di una questione ovvero dell'essere funzionale a due o più personaggi maschili perché infatti non è la protagonista di Star Wars ma è parte integrante del nucleo centrale e infatti Leia fin dagli anni 70 è un personaggio costruito come tanti altri non lo sono stati in seguito combatte spesso in prima persona ma non sempre non si tira mai indietro perché i suoi ideali non glielo permetterebbero mai eppure in generale Leia viene considerato un personaggio molto forte non perché combatte ma per tante altre cose sopravviva alle torture di Vader uccide Jabba the Hutt guida sprone motiva la ribellione e anche negli ultimi episodi della serie che mi creano una certa difficoltà però riconosco che Leia ad esempio non ha mai abbandonato il proprio ruolo non ha mai abbandonato le proprie caratteristiche tanto che ora è diventata il generale organa non è definita come moglie di quello o madre di quello anzi continua con la sua incrollabile determinazione fiducia e lealtà a guidare la rivolta a guidare una causa che lei percepisce come più grande della sua stessa vita questo non la rende mai però priva di emozioni anzi proprio uno dei suoi punti forti è proprio che i suoi sentimenti la sua empatia e il fatto che per lei sia inaccettabile la sofferenza il dolore che provano altri causato da altri ancora e in tutto ciò ha sempre avuto il tempo per farsi delle magnifiche acconciature e questo non la rende mai frivola o debole lei è la principessa che ha chiesto aiuto quando ne aveva bisogno non dimostrando di essere debole ma anzi dimostrando di avere una grande intelligenza e capacità di costruire relazioni ponti guidare un intero movimento invece che intestardirsi per orgoglio personale nel voler fare tutte le cose da sola ammette anche amaramente i propri errori i propri limiti senza che però questo diventi ciò che la definisce spesso lei non combatte in prima persona e partecipa a volte ma non sempre perché è impegnata a coordinare ha un ruolo di coordinazione e non è una pilota esperta come sono invece Luke e Han eppure risulta sempre imprescindibile nel superare le situazioni che affrontano tutti i nostri eroi è anche la principessa che si salva da sola è esuberante è spiritosa fa morire dal ridere lontana dai ruoli dai modelli tradizionali ma senza mai diventare spietata e insensibile e comunque abbracciando potentemente la propria femminilità lei è una ribelle in tutto e per tutto è abbastanza femminile ovviamente prendetelo con le pinze questo termine da essere corteggiata da Han e salvata da alcuni ragazzi ma sempre imprescindibile e tosta per guidare una ribellione è la vera roccia emotiva della narrazione sempre forte sempre determinata e inammovibile nelle sue convinzioni e nelle sue speranze anche per i compagni e soprattutto spronando i compagni questo è un perfetto esempio che non elimina alcune caratteristiche tendenzialmente attribuite alla femminilità e al mondo femminile che non le condanna non le stigmatizza ma anzi diventano parte integrante di un personaggio molto più complesso molto stratificato che non ha assolutamente alcun bisogno di demonizzare un certo tipo di femminilità e poi di accostarle invece a caratteristiche di altro genere dove le donne non venivano mai rappresentate nell'epoca e purtroppo anche adesso e io penso che nessuno potrebbe mai identificare lei e Organa come un personaggio debole solo perché non corrisponde allo strong female character e non ha annullato le proprie caratteristiche più vicine al mondo femminile direi che oggi avrò girato un video eternamente lungo un po' mi dispiace un po' no perché mi interessava approfondire tanti aspetti di questo argomento spero anche che più si andrà avanti più questo stereotipo verrà eliminato e sostituito con dei personaggi realistici complessi nei quali effettivamente identificarsi o ai quali aspirare ma anzi spero che sempre di più verranno presentati dei personaggi femminili complessi dei personaggi femminili che non negano la propria femminilità per sostituirsi a delle caratteristiche maschili perché la forza femminile non risiede solo nella forza fisica come non lo risiede solo quella maschile e anzi spero davvero di leggere sempre più personaggi ai quali potrò aspirare e che potranno diventare dei modelli per sempre più persone non solo donne e ricordatevi che la parità soprattutto passa anche attraverso certe cose la parità è riconoscere le differenze e abbracciarle e aspirare invece a dei modelli che superino queste differenze di genere e personalmente spero che questo video sia risultato interessante e anche voi se avete degli esempi di strong female character o di personaggi che invece ribaltano lo strong female character mi piacerebbe parlarne con voi giù nei commenti spero davvero che il video di oggi sia risultato interessante come sempre il Feminist Friday continua anche su Instagram quindi se volete partecipare a me fa un sacco piacere basta che scattiate una foto che riguarda un tema femminista un libro un'autrice o qualsiasi cosa che sentiate la necessità di condividere un artista un film va bene tutto ricordatevi di usare l'hashtag Feminist Friday e io lo riposterò nelle mie stories e niente io vi ringrazio davvero per essere rimasti qui con me in questo Feminist Friday e direi che noi ci vediamo al prossimo video ciao